ce l'ho lei è Giulia che interpreta Aang da Avatar, la leggenda di Aang Tempo Fuoco Aang Molto tempo fa nel mondo regnava la più completa armonia Poi tutto cambiò quando la nazione del fuoco decise di attaccare Solo l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, poteva fermarla Ma quando il mondo aveva più bisogno di lui, scomparmi Sono passati cento anni e io e mio fratello abbiamo scoperto il nuovo Avatar Un dominatore dell'aria di nome Aang Ma nonostante la sua abilità nel dominio dell'aria ha ancora molto da imparare Ma io ne sono certa, Aang salverà il mondo Ma io ne sono ancora molto da imparare Grazie mille Giulia Avvicinati alla giuria Pensa, ho pensato come tradurre